Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito Amazon. Quest'ordine riguarda un kit di pennelli per il make up. L'ordine è integrato a giugno della destinazione circa due giorni lavorativi, spedito con Amazon Prime. Il prezzo è di circa 13 euro, anzi non di circa, è precisamente di 13 euro e 99 per il set completo. Andiamo a riaprire il pacchetto. Ok, questa è la confezione. La marca è Bestie Day. E' creato per il tuo stile. E' un bel pacchetto, quindi anche per un regalo si presentano abbastanza bene. Questo è un omaggio da parte del mandatore. Si tratta di due spugnette in gel. Ve ne faccio vedere una. E' quella qui. qui c'è il manuale che schiera i tipi di pennelli che ci sono all'interno. e qui c'è la confezione in simile pelle bianca, beige più che bianca. così si apre. E dentro ci sono tutti i pennelli. Eccoli qui molto carini. Tendiamone uno che vediamo più da vicino. Qui c'è la marca. E' impressa in oro su una base argentata. qui questo pezzo è dorato. E poi c'è il pennello con le setole sopra più scure e alla base beige. E' molto morbido come pennello. Sembrano di ottima qualità. ovviamente poi ci sono tutti i tipi di pennello. Vi faccio vedere questo che è magari più particolare. ecco qui. Anche questo. Ok. Per il resto sono dei comuni pennelli per il trucco. La qualità sembra buona. Sono molto morbidi. Quindi li consiglio. Ok. Questo è il prodotto ordinato. Se vi interessa come al solito vi lascerò il link per l'acquisto nelle informazioni del video qui in basso. Il prezzo abbiamo detto che è di 13,99 euro. Quindi sono abbastanza economici. E se siete ancora iscritti al canale vi consiglio di farlo. Così resterete aggiornati su nuovi video che usciranno riguardanti sia Amazon che molti altri siti di acquisti online. Per il video di oggi è tutto. Alla prossima. Ciao.